sì da una parte potrebbe dare questa... no aspetta devo rifare tutto facciamo una roba metti stop dimmi tu quando parti ma bentornati su... oggi lo dice la mia ciotola semplicemente non siamo su un set cinematografico cioè figurati però siamo in un posto altrettanto magnifico abbiamo visto che la maggior parte dei il posto dove ho girato è sempre stato in mezzo alla natura e oggi siamo qua in mezzo a questi alberi che a me al primo acchitto alla prima impressione che ho avuto vedendo questo posto qua ho detto sempre il classico film thriller horror dove tipo la vittima scappa dal presunto assassino e scappa in mezzo a questa foresta con questi fiti alberi eccetera 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 allora perché non presenterà la prossima sbarbata dove appunto mette un po' di soggezione magari all'inizio ma per una sbarbata tranquilla ho detto siccome stiamo arrivando sempre di più verso il periodo un po' più freddo ho deciso di utilizzare questo questa atmosfera questo ambiente proprio per presentare il nuovo prodotto che ho qui con me e ora ve lo mostro perché sono tutte new entry ma soprattutto darò una sfida anche a me stesso di provare il ghiaccio su ghiaccio in che senso ora ve lo mostro con i prodotti nonostante ci stiamo avvicinando in un periodo in cui farà molto più freddo che ho deciso di portare in questo posto qua qualcosa che fosse a livello di mentolo tutto mentolato magari voi vi chiederete ma perché qualcosa che magari dà una sensazione di freddo in un in un clima che è molto simile dato che sempre di più ci avviciniamo anche verso l'inverno in realtà la particolarità di questo prodotto è che può comunque regalare delle emozioni distinte anche in una fase invernale già si preferisce magari d'estate perché dici hai caldo e vuoi qualcosa di fresco sul viso ma anche d'inverno può dare comunque un effetto particolare ed è per questo che io intanto voglio iniziare con un pre barba pro raso essendo fuori voglio comunque prevenire la mia pelle questo lo conosciamo tutti benissimo perché è il classico pre barba della linea verde che ha l'olio di eucalipto e mentolo ma qual è la nuova la nuova new entry vabbè un gioco di parole ebbene sì fine snake bite viene chiamato proprio il morso del serpente perché ha un perché innanzitutto questo sapone è un hard soap o meglio un sapone più duro rispetto agli altri che abbiamo visto quelli un po' semi duri quelli morbidi o le creme da barba infatti basta aprire la confezione per vedere questo un po' più piccolo rispetto alla ciotola ma basta che lo tiri fuori ed è proprio hard in effetti se vedete bene ha anche il suo simpatico simbolo del serpente mamma mia ma la cosa ancora più intensa e smante che non ho mai trovato in un sapone è che questo fine ha 5 volte il mentolo all'interno e ho detto diamo una sfida anche a me stesso sotto questo punto di vista insieme al suo sapone dato che la prima volta che lo utilizzerò ho portato anche il suo dopo barba ecco sempre il morso del serpente e anche questo c'è cristalli di mentolo all'interno poi ovviamente per rimanere in tema voglio provare questo pennello che è un 24 mm sintetico della fine appunto basta vedere anche qua ok e poi dopo tanto tempo che non lo utilizzavo perché la prima volta mi squartavo il viso ma poi personalmente ho visto che quando ho preso un po' più la tecnica ho portato il fine marvel questa sorta di rasoio che sembra piccola ma è veramente pesantino e poi è anche bello spesso io lo chiamo il martello di Thor proprio perché ha questa forma che lo ricorda poi si chiama marvel e quindi voglio dire c'è quasi di mezzo a questo gioco di parole tra appunto lo studio fumettistico e quindi il rasoio l'ho voluto un po' interpretare in questo modo la mette invece essendo qua nel completo verde ho voluto riprendere un po' quelle classiche quelle che tanti consigliano anche per il neofita ma in realtà io le ho utilizzate la prima volta però non è che mi sono trovato così propriamente bene oggi le voglio riprovare perché dopo tanto tempo magari mi daranno anche una soddisfazione diversa e sono le classiche astra verdi quindi prepariamoci per il montaggio sarà un po' più particolare perché essendo un hard shop ci vorrà un po' più tempo però bando le ciance, ciance alle bande, cominciamo e quindi versi un po' più tempo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, già i primi errori. Vabbè, c'è un sacco di schiuma giustamente. E servirebbe anche un po' di acqua perché nel frattempo che sistemavamo si è un po' asciugato. Ecco, già i primi errori. 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 parte qui che ancora sento qualcosa ma non ci vado tanto soprattutto quando sono fuori forse avete notato che ho avuto parecchie parecchi fastidi a un po di taglietti ma soprattutto sul labbro qua per sbaglio con sono scivolato con il rasoio e mi sono procurato un taglietto in effetti penso che una su quattro cinque passate che ho fatto con il rasoio da quando l'ho acquistato solo una penso mi sia andata molto bene poi l'avevo fatta in casa quindi che avrà anche giovato quello per l'appunto lo consiglio da utilizzare subito quando si parte con la rasatura tradizionale però col tempo che acquisisci un po la mano devi andarci molto molto delicatamente perché ha un gap molto alto e quindi tende anche a provocare questi tagli se non si sta molto attenti il sapone in sé micidiale proprio ghiaccio puro direi ice che veramente spacca però mi piace mi piace questa sensazione di freddo direi che adesso ci manca solo un passare dopo barba che non ho idea di cosa possa fare sulla mia pelle sicuramente a sanificare le ferite prima di tutto bene proviamo ecco tra l'altro è ancora così la confezione come mi era arrivato proprio perché non l'ho mai utilizzato già mi parte sul labbro e ha bruciato allora intanto è mentolo puro perché qua ci sono i cristalli di mentolo anche qua utilizza la forma delle cinque volte magari dietro si vede sembrano molto delicato assomiglia molto al pre barba del provato eh c'è il mentolo che sente e anche un che di dentifricio per certi versi per certi versi però l'ho sentito il primo botto di alcol vado un altro po' perché è un po' come ho sul passato ah mosto che puta schiappa al collico giusto per darmi con la botte in più ragazzi è un mentolato forte strano che non abbia lacrimato perché io me lo son sentito sulla pelle è forte per fortuna che qua fuori non serve neanche il panno per asciugarmi perché si asciuga subito però ragazzi è veramente fortissimo cioè veramente fresco comunque vi posso dire una cosa la verità ragazzi che è un mentolato forte però ho fatto anch'io degli errori però mi sembra giusto che ve li dimostro perché qua ad esempio c'è un po' di sangue il taglietto sul labbro anche qua sopra è normale soprattutto se compri questo rasoio qua e non hai tanta manualità io pensavo di averla già un pochino presa ma in realtà mi sono fatto un po' prendere dal momento un po' anche dal fatto che siamo all'esterno siamo a casa forse ho dato meno attenzione sono dato come con un'apertura che pensavo fosse quella sicura invece mi sono sbagliato però errori capitano quindi mi pare giusto anche dimostrare questo non come ogni volta ogni sbarbata che sembra quasi quella perfetta non mi piace mostrare questo mi piace anche mostrare i lati pro e i lati contro quindi il contro è stato che non avendo ancora esperienza non essendo un rasoio che useresti soprattutto tutti i giorni mamma mia che sto mentolato intanto mi sta facendo un fuoco quindi mi raccomando eh state molto attenti quando utilizzate certi prodotti e da qui lo zio 6m su sbarbati e un po' tagliati e profumati linea alla vostra casa ciao